ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo ad analizzare insieme un progetto molto interessante che si chiama e finiti dietro a questo progetto c'è il team di engine coin engine wallet è una paracenne che si collega a polka dot dedicata agli nf tg ai token non fungibili andiamo a vedere il suo funzionamento e come partecipare a questa raccolta fondi alla ic o dopo la sigla a vedere che cos'è il progetto e finiti da non confondere con definiti che un'altra cosa allora finiti e una ico quindi un alzio che verrà lì lanciata il 24 giugno 2021 come vedete qua sotto start in 11 giorni con l'acronimo e fi sarà un token e per la tocca in sele ci saranno 100 milioni di token il prezzo della ico sarà di 0.20 centesimi di dollaro il found racing goal sarà di 20 milioni di dollari per partecipare a questa raccolta fondi sarà necessario depositare in bitcoin e tiri un usd si usdt e sarà una ic o pubblica come vedete più a destra abbiamo la token distribution dove il 70 per cento di token andrà alla fondazione il 12 per cento per investitori privati quindi una prova sale il 5 per cento una public sale 10 per cento verrà rilasciato per il team dove si può acquistare dove si può partecipare a questa raccolta fondi come vedete vedete qui where to buy coin list clicchiamo col tasto sinistro del mouse andiamo alla piattaforma di coin liste sulla pagina di e finiti la nuova generazione block chain per to che non fungibili clicchiamo col tasto destro mettiamo la nostra lingua si può registrare alla partecipazione della ico fino al 18 giugno e la vendita inizierà il 24 giugno alle ore 17 uti si il progetto in questione viene lanciato su paracene di polka dot il team che sta alle spalle di questo progetto attenzione non è nient'altro che il team di engine coin infatti se scrolliamo più in basso engine aperto alla strada al settore dei tocchi non fungibili nel 2017 creando uno standard avanzato il token e rc 11 55 e lanciando la prima piattaforma di creazione nft engine è il team dietro ai fini di una rete nfc nft cross chain alimentata dai finiti token e costruita come ho detto prima su polka dot è una block chain che va a completare la block chain di engine le transazioni vengono confermate in sei secondi e a differenza di bitcoin e tirum e finiti premi e partecipanti della rete quindi non i minatori quindi tutti i creatori commercianti di nft e gli sviluppati agli sviluppatori ai primi utilizzatori vengono premiate con il token e fi essere sulla essere una paracene di polka dot è fondamentale perché consente a qualsiasi nft di qualsiasi catena di essere spostato sulla propria rete potenziandolo con funzionalità di nuove generazioni commissioni ovviamente basse e tempi di transazione rapidissimi le reward ovviamente verranno generate soprattutto anche per chi partecipa attivamente alla risoluzione dei nodi con lo staking detto che stesso per partecipare alla ico bisogna registrarsi compilare tutti i dati richiesti l'identità la residenza ovviamente il che si rispondere un breve quiz impostare la sicurezza e lo status dopodiché all'apertura della ico si potrà acquistare il token andiamo a vedere un attimo i dettagli della vendita abbiamo visto a 7 e finiti il periodo di apertura e registrazione l'abbiamo già visto il prezzo anche vediamo che c'è un minimo e un massimo di acquisto minimo 100 dollari massimo 500 dollari si può comprare con ben detto prima in bitcoin e tiri un sdc usdt correndo più in basso andiamo a vedere che uno dei sostenitori più grandi di e finiti e cripto puntocom vediamo un attimo le caratteristiche della dell'ecosistema costruito su polka dot il token utility oltre allo staking è un token governance per la dao è una paracena con ponte a catena incrociata quindi supporta il token rc 20 il 7 21 e l'11 55 sui tirium secondo quanto dice nei casi d'uso e finiti fa parte dell'ecosistema multi cene si trova esattamente a metà tra la cena jump net di engine e la blockchain di tirium questo collegamento tra le due cene consentirà ai privati alle aziende di creare nft che possano facilmente spostarsi su diverse catene sfruttando i vantaggi che abbiamo appena visto trovandosi in mezzo a queste due catene ovviamente e finiti fungerà da bridge da ponte di collegamento quindi senza dubbio è un progetto molto interessante anche perché dietro c'è il team di engine io sono un grande sostenitore di engine coin del loro progetto del loro wallet quindi magari sono un pochino di parte mi raccomando fate sempre le vostre ricerche questo non vuole essere un consiglio finanziario però vale la pena tenerlo in considerazione andiamo a vedere un attimo come partecipare come abbiamo visto prima dobbiamo effettuare una registrazione clicchiamo su dove erano lo sono perso eccolo qua iscriviti ora andiamo a compilare i dati una volta inserito nome cognome email e password veniamo re indirizzati ovviamente a un email di verifica apriamo il nostro la nostra email cliccando sulle mele che abbiamo ricevuto abbiamo confermato che siamo noi che abbiamo abbiamo registrato quell'indirizzo e andiamo a compilare tutti i format richiesti quindi inseriamo che siamo una persona nome e cognome subito dopo andiamo a selezionare il nostro paese di residenza quindi italia in questo caso proseguiamo inseriamo il nostro indirizzo e la nostra data di complanno e il numero di telefono al passo successivo dobbiamo verificare la nostra identità scegliamo tra passaporto patenti di guida oppure carte d'identità e proseguiamo che possiamo sia inserire una foto tramite la webcam oppure caricare un'immagine che avevo già salvato sul nostro computer continuiamo anche la prova biometrica e poi andiamo a finire la compilazione dei dati ok adesso siamo alla parte del quiz prima di poter partecipare mette alla prova la tua conoscenza di affinity community sale con un quiz qual è il team dietro a affinity engine su cosa è costruito e finiti ovviamente polka dot quanti token vengono assegnati alla vendita di coin list 100 milioni di token qual è il mercato e qual è il meccanismo di vendita per la vendita di affinity perfetto segniamo la terza voce quali valute sono accettate per il pagamento nella vendita la prima voce qual è il prezzo per token e all'acquisto massimo per la vendita ok la prima cosa succede se qualcuno invia un acquisto ma non lo completa lasciamo mettiamo l'ultima risposta dove potrò partecipare alla vendita del token su coin list l'ultima domanda cosa succede a un utente che utilizza bot l'account dell'utente verrà chiuso ok perfetto avevo solo fatto un errore alla domanda 7 proseguiamo andiamo a inserire il l'autentificatore a due fattori nel mio caso 8 317 4 3 abilitiamo l'autenticazione perfetto adesso non c'è resta che far altro che fare il setup di con il list wallet una volta che clicchiamo su setup con il list wallet verremo riportati alla pagina dei wallet di con list dove si può partecipare a questa vico ea tante altre nel caso è una volta che ci verrà approvata la nostra identità potremo impostare il wallet e poi andare a decidere quanto investire in questa ico siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento se il video vi è piaciuto lasciatemi un like non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e donna via la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi ciao a domani